Ha ucciso la moglie e i suoi figli adolescenti, Rael e Michael, di 17 e di 15 anni, insieme ad altri tre ragazzini prima di uccidersi. Un massacro, quello commesso The Jess McFadden, 39 anni, negli Stati Uniti. L'uomo, secondo quanto si apprende, ha aperto il fuoco, mentre il gruppo di ragazze era insieme per un pigiama party di sabato sera. Tutte le vittime sono state freddate con un colpo alla testa dall'omicida che aveva un passato criminale per reati. Secondo le prime ricostruzioni, il 39enne avrebbe sparato più volte alla testa delle vittime con una pistola di 9 mm all'interno della sua proprietà, per poi spostare i corpi in una zona boschiva vicino casa, subito dopo averli portati fuori l'ennesimo atto di follia e suicidio.